C'è tempo fino al 15 settembre prossimo per iscriversi all'edizione 2022 del premio Cambiamenti, la manifestazione voluta dalla CNA nazionale per valorizzare e dare visibilità alle neo imprese innovative italiane. Ricca anche quest'anno la dotazione di riconoscimenti attestati che vanno dai 20.000 euro assegnati al primo classificato, 5.000 al secondo e poi un'ampia gamma di premi sotto forma di convenzioni e servizi messi a disposizione dai partner della manifestazione che è stata presentata questa mattina nella sede della CNA Abruzzo a Pescara. È un premio che ha rivolto alle start-up costituite dal gennaio 2018 e che viene premata l'innovazione dell'impresa. L'importanza del premio all'interno del contenitore del format che è la Camera di Commercio Chiti Pescara insieme all'agenzia di sviluppo della stessa e all'interno appunto di Visionaria che è un contenitore nel quale si confrontano gli stakeholders del nostro territorio proprio sui temi dell'innovazione. Un contenitore che oltre al confronto in qualche maniera tende a creare proprio un metodo di relazioni per far sì che il nostro sessuto imprenditoriale supportato anche dai premi che come CNA quindi il premio cambiamenti ma come altre associazioni datoriali Confindustria e altre che sono rivolti appunto al tema dell'innovazione si mettano insieme e si crea appunto relazione per promuovere il nostro tessuto imprenditoriale. In Abruzzo nascono circa 7.000 imprese però è anche vero che ne chiudono nello stesso anno circa 5.000 quindi abbiamo un tasso attivo tra apertura e chiusura ma il dato un po' preoccupante è che in Abruzzo le imprese artigiane scritte alla bar artigiane in realtà hanno una flessione negativa cioè delle 1.500 nuove imprese artigiane quasi 1.600 in realtà nell'anno chiudono. L'occasione del premio cambiamenti è il momento per fare il punto su questi su questi dati ma anche il momento di rilancio a favore di nuovi imprenditori che decidono di crearsi un lavoro improprio attraverso un'attività di imprepio e scommette sul proprio coraggio sul suo proprio saper fare e sulla propria ambizione di imprenditori non chiedendo quasi niente a nessuno e guardando al mondo all'auto impiego di fatto